Voleva proteggere la sua amica dalle pressioni insistenti di un uomo, così domenica pomeriggio lo ha affrontato a Piazza Bellini, in una delle zone della Movida napoletana. Sarebbe questo il movente dell'aggressione contro Walter Navidad de Fortes, 37 anni, che ancora lotta per la vita in ospedale, dopo che un 34enne lo ha ripetutamente colpito al ventre con un coltello. Hanno ferito uno dei pilastri della cultura hip hop napoletana e nazionale ed è stato accoltellato a Piazza Bellini nell'indifferenza di tutti per aver difeso una donna. Ha scritto sui social Alberto Polo Cretara, storico rapper partenopeo da New York. Non è un extracomunitario, ha aggiunto, ma napoletano e ha insegnato la breakdance nelle scuole superiori, così come nelle periferie, da Ponticelli a Scampia, levando tanti ragazzi dalla strada, mostrando loro la possibilità di una vita migliore. Intanto è partita anche la raccolta fondi Siamo Tutti Walter Navidad de Fortes, che ha già raccolto più di 1000 euro per lui. Il 34enne, sottoposto a fermo, è stato rintracciato poche ore dopo dagli agenti della squadra mobile della questura di Napoli, agli ordini del dirigente Alfredo Frabrocini. Su disposizione della procura, l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Poggio Reale. Intanto le indagini sono ancora in corso per ricostruire del tutto il momento dell'aggressione.